Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, oggi siamo tornati nella Staff Series Siamo su un nuovo server chiamato Flexicraft Quindi io vi chiedo già da subito di lasciare un like Perché ci ha messo un po' di tempo a mettere insieme tutte le clip e a registrarle Quindi un like e un commento sarebbe molto apprezzato Quindi io vi lascio alle clip Bella Ok ragazzi c'è questo Daniel Killed Piopi che mi sembra che citti i momenti di write strane Quindi andiamo a fare il controllo Quindi control Questo qui Daniel Killed Control Ok Vediamo se c'è Ah Ok ragazzi c'è un certo stack che hackerà abbastanza Quindi andiamo a fare un controllo Quindi control stack Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi c'è questo ridosso che mi sembra che hackeri Quindi ora andiamo a fare direttamente controllo Ah Ok raga è fermo da 5 minuti non ha ancora scritto niente quindi lo banniamo per rifiuto Ok a posto ci vediamo nella prossima clip Perfetto ragazzi questo era il video Io spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Lasciate anche un commento per dirmi cosa ne pensate E magari di darmi anche qualche consiglio Quindi io spero che questo video sia piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo nel prossimo video Bello Grazie a tutti